Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore, la storia di oggi è come ben saprete, le discussioni e le sfide sono all'ordine del giorno in Honduras Poco fa, un concorrente amatissimo del reality di Hilary Blasi è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa di un problema di salute non affatto facile Purtroppo, l'Isola dei Famosi, mette sempre a dura prova i concorrenti, sia a livello emotivo e anche fisicamente, scopriamo cosa è accaduto poco fa, non ci crederete mai L'Isola dei Famosi, concorrente abbandona il gioco, ecco chi è L'Isola dei Famosi 2022 è uno dei reality più apprezzati e seguiti di sempre Nei giorni scorsi, uno dei protagonisti ha dovuto abbandonare il reality di Canale 5 Sapete di chi stiamo parlando? Proprio di Marco Cucolo, amatissimo personaggio di questa edizione Il giovane fidanzato di Lorin del Santo, ha lasciato l'Honduras per ritornare in Italia ad operarsi a causa di un problema di salute, precisamente, dopo tre giorni dall'eliminazione di lei Ma cosa ha avuto Cucolo? Ha avvertito alcuni problemi allo stomaco e dopo diversi accertamenti hanno scoperto che doveva essere operato per dei calcoli alla cistifellea Ma anche questa storia ha dei retroscena ancora più drammatici, a svelare tutto è stata Lorin del Santo, ha raccontato ogni cosa al settimanale nuovo, si è lasciata andare a delle dichiarazioni davvero sconcertanti scopriamo di più Lori del Santo, la sconvolgente rivelazione, duro attacco alla produzione dell'Isola dei Famosi In un'intervista rilasciata a Nuovo, Lori del Santo ha fatto delle sconcertanti rivelazioni sulla produzione dell'Isola dei Famosi La donna sostiene che gli autori della trasmissione abbiano fatto rientrare Marco Cucolo in Italia, solo per farli litigare È vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare. Il mio sospetto è che l'abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo Ma non è finita qui, perché la donna ha rivelato che con il suo fidanzato la situazione è davvero critica, infatti, pare abbia deciso di lasciarlo Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare la prossima messa in onda della puntata dell'Isola dei Famosi per scoprirlo Sicuramente non mancheranno i colpi di scena.Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie Grazie per la visione